A 50 io ho dovuto, con mia madre che erano lì dentro, ho dovuto interrompere le scuole, andavo all'ITIS e ho dovuto interrompere e cercare di fare qualche lavoretto in giro, insomma questo era un problema che avevamo perché se all'ILVA non lavoravano facevano i corsi, poi mia madre nell'ILVA gli cascò una cosa su una gamba e rimase a casa per infortunio e quando ho finito l'infortunio entrata si è trovato nella lista dei licenziati e quindi era cruta perché di due non lavorava nessuno e quindi è stata dura. Noi ragazzi allora nei tempi del 50 quando lo stabilimento era chiuso andavamo a raccogliere il ferro per portarlo nell'ILVA perché lì gli operai facevano delle colate, portavamo il ferro e andavamo a raccogliere queste cose qui. Poi naturalmente c'erano delle manifestazioni in prazza, qualcuno dell'ILVA, otto operai dell'ILVA furono arrestati e codallati anche con le camionette della polizia che passavano in via Pagliocco a passare i portici, quindi c'erano delle battaglie tremende perché non ce n'era allora siccome il gruppo era affondato si faceva un Natale in fabbrica, io poi ho conosciuto mia moglie e lei con la sua famiglia, il suo padre che era un capo nell'officina ma avevano fatto un Natale in fabbrica, cioè i documenti o le fotografie che erano lì. E erano tempi abbastanza duri. Il negozio sì che aiutavano le famiglie, facevano dei prestiti, però a un certo momento le cose finiscono e da tutti gli impiegati, gli operai che c'erano lì dentro sono stati ridotti di un bel po'. Dopo il militare ho finito perché mia madre insisteva, vai perché qui il lavoro non c'è né, ti puoi fermare, ma non potevo fermarmi in marina perché mia madre era iscritta al partito comunista quindi la carriera era già chiusa prima di entrare anche se ero stato promosso al merito, quindi mi sono concedato e ho lavorato un po' al porto, ho navigato, sono stato sei giorni alla deriva sul triangolo, poi è diventato il triangolo delle Bermude, quindi non ho più navigato, sono sceso lì e un giorno ho sentito che facevano le domande per lì, vi ho fatto la domanda e sono andato a un colloquio, io qui avevo come dicevo l'avviamento industriale e sono andato al colloquio, poi nel colloquio mi hanno chiesto che i giornali leggevi e io con l'esperienza che avevo avuto in marina ho detto leggo solo giornali sportivi, allora mi hanno preso altrimenti, ci hanno fatto fare un corso di tre mesi dove mi sembra che chi faceva bene nel corso gli davano 7500 lire nel 57 e allora gli ho fatto un corso, ho sempre preso le 7500 lire e poi finito il corso ci hanno assunti, ci hanno assunti dal primo di maggio del 57 e sono stato destinato nei tracciatori, il tracciatore era un grosso reparto di gente veramente in gamba e io sono stato affidato a Minutolo che era stato mio maestro, una persona proprio disponibile, uno che se facevi qualcosa di buono lo diceva, non se la prendeva lui e quindi è stata una scuola di tutto, più un riparto compatto e noi lì nella carpenteria abbiamo fatto i 19 padiglioni dell'Italia 61, il Palazzo della Rai a Roma, abbiamo fatto i punti delle autostrade, anche qui a Savona in via Guido Bono c'è ancora un ponte fatto lì tutti fatti chiodati, facevamo la cupola della chiesa di Dogliani, abbiamo studiato un mucchio sulla chiesa, su come doveva venire, era un lavoro che era anche interessante, il nostro lavoro purtroppo non finiva con l'orario dello stabilimento perché se dovevi sviluppare dei disegni poi questi ti rimanevano nella mente e magari dormivi di notte ti veniva a mente che avevi fatto una cosa che era meglio andare a verificare perché era una pressione forte, però eravamo un reparto compatto, c'era della gente veramente in gamba, c'era per esempio Clevarino che era un saldatore che era formidabile, non riusciva mai a prendere il patentino da primo solo perché quando erano lì che lo guardavano per fargli l'esame lui ritrebava la mano, quando non lo guardavano facevano delle saldature che erano la fine del mondo e quindi c'erano i montatori, c'erano chi tagliava, chi tagliava con l'ossigeno, chi saldava, chi saldava con le bacchette per l'acciaio inossidabile e lì facevamo, noi facevamo degli sviluppi che dovevamo starci attenti perché se ti capita di fare un serbatoio che devi fare, trecciare una curva di 30 metri con passi di 30 metri non ce n'è, ti devi attrezzare per far costruire la curva su una lamiera magari lunga sei metri e quindi bisogna che ti calcoli la freccia, la corda e tutte le cose e per calcolare tutte queste cose qui noi avevamo due mattite e una gomma e basta e quindi quando dovevamo fare anche solo il teorema di Pitagora per trovare una diagonale dovevamo farci la radice quadrata a mano, oggi un telefonino, un coso sarebbe una cosa ridicola, però con tutti quelli che studiano io vorrei venire uno a fare la radice quadrata a mano se riesce ancora a farla, nel nostro reparto saremmo stati una trentina, c'erano quindici maestri così e quindici garzoni e dal nostro reparto poi a forza di studiare così sono usciti cinque geometri, per gente che come sottoscritto quando è arrivato allo stipendio, che i tracciatori avevano lo stipendio più alto della carpentaria doveva aspettare la pensione, io avevo 26 anni, ero già lì, avrei dovuto aspettare la pensione, allora mi sono iscritto, ho studiato cinque anni di sera, mi sono diplovato e poi sono passato l'impiegata. Siccome ero nel consiglio del quartiere della Rocca di Leggino che è stato il primo consiglio di quartiere fatto qui a Savona, allora lo facevamo lì, facevamo la cosa, noi avevamo detto ma perché stare in casa, aspettare che ti mettono la bomba quando possiamo girare fuori e far dormire gli altri e facevamo due ore a testa a coppie giravamo per il quartiere e allora sì, ci trovavamo diverse persone, però quasi tutti i giorni ci toccavano le nostre due ore. Le ronde erano fatte da molta gente, però ora quantificare quanto possono essere stati, francamente non lo ricordo, ma ce n'era. ci vedevamo, c'era in via Chiavella 14, 1 c'era il consiglio di quartiere, ci vedevamo lì, proprio in un edificio dell'edilizio popolare, ci vedevamo lì dentro, di lì c'erano i rappresentanti di tutti i partiti e tutti partecipavano a queste ronde e quindi andavamo avanti su queste cose. Per le case popolari l'Ilva le ha costruite perché i soldi che c'erano nell'Ilva per le case ha costruito proprio le case e le ha costruite lì in piazzale Moroni, le chiamavano le casette che erano basse proprio adesso ai civici 1, 3, 5, 7, 14. C'era anche un edificio dove c'erano i guardiani, quindi erano tutti lì dell'Ilva e poi queste case le hanno vendute. Piazzale Moroni, bisogna dire una parola che è sempre considerato il ghetto di Savona e io rifiuto questa dicitura perché per conto mio non è vero, perché è impossibile che le maestranze dell'Ilva fossero portate su un palmo di mano quando erano nell'Ilva e diventassero poi dei delinquenti quando andavano a casa. Questo è inconcepibile come concetto. e io che lavoravo lì dentro, ero diplomato e lì dentro dovevamo fare le battaglie per le case popolari io insieme agli altri abbiamo fondato il sindacato Sunia, del sindacato unitario nazionale degli inquilini assegnatari e lì sono stato segretario dal 78 fino al 2000 via, quindi io andavo in fabbrica, lavoravo, facevo l'impiegato poi uscivo e andavo nel sindacato e nel 78 quando è uscito l'Iquocanone abbiamo fatto 38 conferenze per tutta la provincia per andare a spiegare che cos'era questa legge e questa legge aveva portato un aumento di affitti del 38% e quindi si diceva, c'era già queste voci che dicevano che avrebbero mandato via gli oltre 50 anni di lì dentro e io a quel tempo ero andato in pensione un collega che faceva il preparatore in carpenteria e io invece in quel periodo lì ero a fare le manutenzioni di tutti gli stabilimenti dell'Ital Sider ho mandato questo, loro sono andati a scartabellare che non c'era nessuno che poteva prendersi i disegni della carpenteria e fare il lavoro di questo grandato via allora mi hanno avvisato a mezzogiorno, cosa che se fosse stato per un operaio sarebbe finito il finimondo ma io ero impiegato, sono venuto lì con il bufalo, mi hanno preso la scrivania e me l'hanno portato in un altro reparto dalla mezza all'una, io ero già dall'altra parte e dall'altra parte mi hanno detto, visto che hai fatto un tracciatore puoi fare anche il capo della tracciatura e così ho cominciato a riunire di nuovo tutti i tracciatori che erano sparsi per il reparto e li ho ragionati tutti lì dentro noi avevamo lo stesso programma che avevano nell'assaldo e allora hanno fatto un accordo, mi hanno detto, Ballini porta i corsi lì all'ansaldo allora per 15 giorni io con la mia macchina ho portato 3-4 tracciatori che erano lì di cui 3 erano geometri, facevano i tracciatori, siamo andati lì all'ansaldo a fare questo corso e all'ansaldo tagliavano le lamiere in una maniera orrenda allora abbiamo chiesto se potevamo insegnarli come tagliare le lamiere perché noi ne tagliavamo delle lamiere spesse anche 150 mm che il taglio era come se fosse stato piallato e allora si trattava di dosare l'acetilene, di cambiare gli ugelli e li abbiamo insegnato allora loro ci hanno insegnato alcune cose del programma che facevamo noi e noi li abbiamo insegnato quelli e ora la fabbrica mandando via gente di 50 anni in su che erano gente tutta esperta, sia impiegati che operai gente che aveva delle qualifiche molto indifferenti, potevano sognare si introdurge e diventa uno stabilimento che la professionalità diminuisce e tutto quello che devi fare piano piano svanisce perché questo è nato tutto dalla famosa parola de regulation che veniva dagli Stati Uniti cioè cosa voleva dire? voleva dire che le scorte che noi dovevamo avere dovevano essere dimezzate perché avevano un costo, cioè noi se un caro ponte dovevano cambiare un cuscinetto dopo duemila ore di lavoro il cuscinetto andava alla squadra e lì lo cambiavano con la de regulation dice no lo cambiamo quando si rompe e quando si rompe il cuscinetto ti può venire un pezzo sulla testa alla gente che lavora e per me l'Ital Sidere è stato un posto importante prima perché ne ho trovato tanta gente capace e brava sia nel reparto dei tracciatori sia nel reparto quando ero impiegato io sono stato anche nel consiglio di fabbrico a rappresentare gli impiegati quindi è stata una cosa importante, è stata una svolta nella vita per me, per la mia famiglia, per la famiglia di mia moglie il padre era stato capofficile deceduto, ha rassunto il figlio, mio cugliato era all'officile, era negli esperti nel consiglio di fabbrica quando dovevano discutere le paghe e le cose e quindi anche la mia moglie, la mia famiglia e la sua hanno vissuto di Italsider, di Ilva, di Italsider e poi di Ilva di nuovo grazie